non siamo soli dai un po' di rincorse camper job eh due palle beh altro che rincorse qui eh qui mi devo rimettere a fare qualche po' di allenamento sempre la mia panza che mi fa da contrapeso non ce la faccio mica dove vi porto oggi? in un bel posticino in un bel posticino fidatevi una volta dai su non in capporella eh tranquilli ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo volo e non video cioè video di volo volo in video vediamo un po' cosa riesco a fare ho venduto il Parrot Bebo 2 volevo comprare la nafi perché mi piaceva esteticamente per tante cose ero convinto poi è arrivato il signor X che è un mio carissimo amico che fa il youtuber anche lui e mi ha detto lascia stare la Parrot ok ma guarda che gli faccio a mano da comprati un DJI ed eccolo qua è il più piccolo della serie si chiama Spark gli ho montato i paraeliche lì c'è il suo bel radiocomando già impostato giusto e pronto meno 3 2 1 piccolo l'opoint è stato impostato per favore guarda sulla mappa molto molto stabile mi sta guardando non so se si riesce a notare e adesso vediamo a quanto riesce ad arrivare con la modalità sport vediamo un po' ciao 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 vi posso dire che sinceramente vola bene molto stabile tutto quanto scusate il problema è che io mi sarei aspettato un pre impostato un po' più per tutti visto che adesso ho volato in 5 8 GHz con DJI in italiano 4.1.5 se non vado errato però comunque vabbè continuavo a dirmi perdita di segnale per un istante però continuavo a pilotare probabilmente devo impostarlo sui 2.4 e devo usare il cavo OTG come mi è stato consigliato va bene al prossimo volo ciao ciao